Ciao ragazzi, oggi siamo qui insieme agli amici della Parma Marathon. Io sono stato uno dei primi ad iscrivermi alla Marathon. Vi aspettiamo tutti a Parma, mi raccomando, una bellissima corsa, una bellissima gara. Venite, oltre a fare la corsa si mangia anche molto bene. Buongiorno ragazzi, venite a Parma anche nel 2017. Il 2016 è stato stupendo, un'emozione, una partenza emozionante nel parco di Parma. Era la prima edizione, nonostante fosse la prima, non è mancato niente. Un percorso bellissimo, divertentissimo, tanta gente, un bellissimo tempo. Allegria. Da rifare, assolutamente. La consigliamo. Noi ci saremo, ciao! Parma mi è piaciuta veramente tanto. Un bel pacco gara, gente affettuosa, una bella partenza piena di tifo e consiglio. Vi consiglio di andare tutti a Parma a fare la Maratona. Mi sono iscritto per la 30 ma alla fine ho capito che era meglio proseguire perché il percorso era stupendo. Ho tagliato i 42 e l'arrivo è stato fantastico. L'anno prossimo farò anch'io 42. Ciao! Ciao! Ciao!